Lo Tito è arrabbiato con i suoi tifosi per la questione abbonamenti, ma gli abbonamenti quando li fate? Abbiamo costruito una grande squadra, ora tocca a voi fare il resto, dice il presidente della Lazio. E rivolgendosi ai suoi tifosi continua, siamo solo a 8.500 abbonamenti, la Roma ne ha già fatti 36.000. E voi cosa ne pensate? Ditemelo qui sotto nei commenti.